Si ferma ancora una volta il cantiere del Giardino della Legalità, lasciando nello spiazzo di Viale Stefano Candura una vasta distesa di terreno incolto. Da 15 giorni, infatti, si sono fermati i lavori al tanto desiderato polmone verde del quartiere San Luca. Dopo l'ultimo sopralluogo effettuato lo scorso 6 ottobre dal sindaco Giovanni Ruvolo, l'ingegnere della ditta appaltatrice Massimo Gadea e il comitato del quartiere San Luca, accompagnato da alcuni commercianti della zona. Un incontro in cui era stata decisa la rimozione di una parte consistente dell'argilla in precedenza depositata e di fatto quasi del tutto eliminata. Un ulteriore sopralluogo congiunto, la conclusione dei lavori entro l'inverno e l'aggiunta di ulteriori tre figure al percorso tematico della legalità. Lavori che procedono a singhiozzo di il presidente del comitato del quartiere San Luca, Fabio Mocciaro, ha rivolto all'amministrazione comunale un accorato appello. Durante quell'incontro, durante questo sopralluogo è emersa una gran confusione da parte della ditta, però nonostante ciò forse ingenuamente noi ci siamo fidati, siamo stati ottimisti per l'ennesima volta. Però come dicevo i lavori sono di nuovo fermi da 15 giorni e nessuna ruspa si vede più in azione all'interno di questo slargo, di questo cantiere. Per questo il quartiere adesso è davvero stanco. È inammissibile che da marzo scorso questi lavori vanno avanti a singhiozzo ed è inammissibile che ancora oggi il quartiere non ha il suo giardino. Per questo noi facciamo un appello a tutta la politica nissana di impegnarsi affinché questi lavori vengano portati avanti seriamente e non con superficialità come è stato fatto fino ad oggi. Se la politica, se la macchina comunale non è in grado di garantire la corretta esecuzione dell'opera e soprattutto lo svolgimento dei lavori in tempi certi, allora chiediamo che il cantiere venga ritirato e che il giardino venga riconsegnato così com'era nuovamente agli abitanti del quartiere. Abitanti del quartiere che saranno sicuramente certi, saranno sicuramente contenti di tornare a prendersi cura di questo slargo. Sì con semplicità però facendo le cose per bene. C'erano stati garantiti altri due interventi all'interno sempre del quartiere. Il primo riguardava una veloce sistemazione di uno slargo di una zona accanto al campetto di via Cimabue. Una veloce sistemazione che sarebbe semplicemente consistita in una sistemazione delle quote. Avevano anche garantito l'abitumatura di alcune strade interne del quartiere che sono in condizioni pessime. Ma ad oggi non solo il giardino si trova nella situazione che tutti conosciamo, ma di questi piccoli lavoretti ancora non si sa nulla. Lavoretti che sarebbero dovuti rientrare all'interno delle opere di compensazione che la ditta dovrebbe eseguire in città. Ma opere di compensazione che come tutti sappiamo ad oggi non sono né state realizzate né si sa niente.